Per la giornata mondiale della poesia che si celebra il 21 marzo su Consiglio dell'UNESCO. Leggerò da Sovversiva Bellezza, autrice chi vi parla. Prezioso è il compito della parola poetica, che dal dolore risorge ogni volta, serbando un riverbero divino. Da far rimbalzare sull'ordo del mistero, così che si riaccenda la vita in bruciante pienezza.